Luca Di Matteo, pochi chilometri perché fino a qualche giorno fa eri a Teramo, ora a Lanciano, innanzitutto benvenuto, le prime impressioni frentane quali sono? Grazie per il benvenuto, ma le prime impressioni sono molto positive, diciamo che la maggior parte del gruppo riconoscevo già e quindi mi sono subito trovato a mio agio. Luca, è inevitabile non parlare di Teramo? Ma sicuramente mi sono trovato benissimo perché ho trovato un gruppo fantastico e un mister preparatissimo e che lo voglio ringraziare personalmente perché mi ha dato tanto. Niente, la situazione praticamente l'avete visto anche voi, non è stata delle migliori, abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo stravinto, però purtroppo la giustizia ha tolto tutto quello di bello che avevamo fatto. Questo ci ha rammaricato tanto e non è stato nemmeno facile lavorare un mese in ritiro con questo pensiero che andava sempre alle cose extracalcistiche. Però alla fine è stato bravo anche il mister, ci siamo compattati e siamo riusciti a fare un buonissimo ritiro. Luca, per concludere, tu tecnicamente come ti metti in campo a disposizione di Daverso? Io negli ultimi anni ho giocato dappertutto, quindi sono abbastanza d'utile, mi metterò a disposizione del mister e dove mettermi giocherò. Sono sicuramente gente che ha campionati sulle spalle importanti, proverò a giocare con loro e speriamo venga fuori un bel lavoro. A livello di moduli 4 in difesa, 3 in difesa, per regione è tutto uguale? No, è uguale, ho ricoperto sia la difesa a 3 che la difesa a 4, per me è uguale. Michele, fisicamente come stai? Già pronto per la sfida di Vercelli? Sì, sì, ho sempre lavorato con la squadra, il ritiro, è stato sicuramente un ritiro dal punto di vista mentale difficile, però comunque è stato bravo il mister Vivarini a tenerci tutti sul pezzo e farci lavorare bene.